Operazione Reset. Azzerato il clan vittoriese della Stida, tre ordinanze di misura cautelare nei confronti di tre soggetti affiliati alla famiglia. L'operazione è stata portata a termine dalla squadra mobile della questura di Ragusa. Ritrovata l'autovettura incontrata a Berdia, utilizzata dai ladri che la notte tra sabato e domenica hanno tentato due colpi, uno a Ragusa e uno a Santa Croce, Camerina. Nuova protesta annunciata dai dipendenti delle nove ex province regionali domani all'Arsa, a Palermo. Intanto oggi a MTG interviene il capo di gabinetto dell'ente, Gianni Molè. E andate in archivio la Pasqua, boom di ascolte anche quest'anno per Pasqua Nelliblei edizione 2016 e il successo della Pasqua a modi che è stato caratterizzato anche dai tre baci serali della Madonna Vasa Vasa. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dunque l'avete ascoltato dai titoli. Si chiama Reset, è l'operazione che ha azzerato sostanzialmente il clan della Stid di Vittoria. L'operazione è stata portata a termine dalla squadra mobile della questura di Ragusa che ha eseguito due custodie cautelari che di fatto hanno azzerato il clan di stampo mafioso. Ce ne parla Viviana Sammito. Sono stati ristretti in carcere stamattina due figli di Filippo Ventura, del clan carbonaro dominante della Stid, Angelo Detto Elvis di 29 anni e Gerry di 27, accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso e detenzione di una pluralità di armi di diverso tipo, fucili di precisione utilizzati dai cecchini e con matricola Brasa. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal GIP presso il Tribunale di Catania su richiesta dalla procura distretto all'antimafia etnea ed eseguita dalla squadra mobile di Ragusa, degli agenti e del commissariato di Polizia di Vittoria anche nei confronti del 31enne Marco Di Martino, già detenuto, genero di Filippo Ventura. Nella disponibilità di Di Martino era stato in flagranza di reato nell'ottobre 2015, era stato rinvenuto un arsenale, armi di diverso tipo, alcune delle quali con matricola Brasa e risultate rubate, cinque fucili dotati di congegni di puntamento ottici per tiro di precisione balistica, tre pistole, una penna pistola, un giubbotto antiproiettile, materiale per fabbricazione di esplosivi, polvere da sparo, pressa per confezionamento di cartucce e migliaio di munizioni. Determinanti e fondate si sono rivelate le dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, i quali hanno sostenuto che l'arsenale era nella piena e pronta disponibilità del clan e in particolare dei tre indagati. La squadra mobile del commissariato di Vittoria, con l'ausilio delle unità cinofie della Polizia di Stato esperto in ricerca di armi esplosivi e stupefacenti, stanno continuando le indagini con perquisizioni nelle abitazioni di due fratelli Ventura per rinvenire altre armi autostanze stupefacenti. Con l'operazione denominata Reset, gli investigatori ritengono di avere così azzerato i vertici della famiglia guidata da Filippo Ventura, riconducibile al clan dominante Carbonaro della Stida. E continuiamo a parlare di cronaca, ci occupiamo del ritrovamento dell'autovettura trovata in Contrada a Berdia, in territorio Ipparino. Questa autovettura era stata utilizzata per tentare due furti con il metodo della spaccata, a portare a termine l'operazione e la polizia del commissariato di Vittoria. Ore tre di domenica mattina in via Achille Grandi a Ragusa, alla cassa continua di un negozio di elettrodomestici in un centro commerciale, viene fatto esplodere un ordigno artigianale nel tentativo di rubare denaro. I carabinieri arrivati sul posto non trovano nessuno ma solo pezzi di miccia detonante. Durante il rilievo il 112 viene allertato per un'altra operazione incontra da pezza a Santa Croce e Camerina, il secondo obiettivo dei malviventi sempre con la stessa modalità. Un tentativo di scasso alla cassa continua di un supermercato dove vengono rinvenuti pezzi di miccia detonanti identiche a quelle trovate a Ragusa. La porta della cassa non si apre, in entrambi i casi i malviventi scappano senza portare via nulla. I responsabili dei due esercizi commerciali comunque confermano che entrambe le casse continuano, erano vuote. I militari dell'arma proseguono le indagini con la visione delle intere camere di vosa sorveglianza, constatando che l'auto utilizzata per mettere a segno i colpi è una Mercedes Coupé rubata in un garage e di proprietà di un questore in pensione. La vittima raggiunta nella sua abitazione ha riferito di non essersi accorta del furto. L'auto è stata rinvenuta domenica mattina dalla polizia incontrata a Berdia, in territorio, di vittoria vicino ad alcune serre. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica che ha effettuato rilevi tecnici. Diversi prelevi di impronte digitali che ulteriormente sviluppate potranno consentire di dare un'identità ai ladri. Gli investigatori ipotizzano che a compiere il colpo siano stati almeno in tre ed è anche probabile che siano stati favoriti nell'esecuzione del piano da un basista che li ha accompagnati a Marina di Ragusa per rubare l'auto con le chiavi già inserite nel quadro ed è anche probabile che lo stesso complice li abbia attesi per la fuga nello stesso luogo dove è stato rinvenuto il mezzo rubato. Su queste ipotesi stanno ancora proseguendo le indagini. Ci spostiamo a Pozzallo per parlare del nuovo sbarco che si è registrato nelle ore di questa mattina. Sono arrivati alle 8 alla banchina portuale. Le operazioni di sbarco però sono iniziate poco dopo le 10 e 15 ad arrivare 730 persone. Nuovo sbarco questa mattina a Pozzallo. Ad arrivare 730 persone. I migranti salvati qualche giorno dietro ad una trentina di miglia dalle acque libiche erano a bordo di sei gommoni su cui viaggiavano rispettivamente per ognuno circa 100 persone. I 730 sono arrivati a Pozzallo intorno alle 8 di questa mattina a bordo della nave battente bandiera norvegese Sainpilot. Poco dopo le 10 e 15 sono iniziate le operazioni di sbarco e con queste i lavori di fotosegnalamento. 500 degli oltre 700 arrivati nella giornata di oggi saranno trasferiti. Per il gruppo infatti sono previste diverse mete dal luogo di arrivo e raggiungeranno non appena terminati gli accertamenti i territori di Catania e Messina. A Pozzallo infatti ne potranno rimanere non oltre 180. Secondo quanto emerge dalle visite mediche, a parte la stanchezza e il senso di spostatezza per via del viaggio, non si registrano problemi di salute gravi per i migranti. Una decina di donne incinte, poco più di 4 persone, sono state ricoverate. Le future mamme e i malati per malesseri generali si trovano adesso nei tre neosocomi ragusani, il Guzzardi di Vittoria, il Civile di Ragusa e il Maggiore di Modica. Le operazioni di sbarco si sono protratte per tutta la mattinata e hanno visto l'attivazione della Task Force, delle forze dell'ordine che sta lavorando affinché siano garantiti alla giustizia italiana gli scafisti che hanno messo a rischio la vita di 730 persone caricate su sei gommoni. È stata la segnalazione da parte di un gruppo di persone ai centralini della Polizia a segnalare la presenza sulla spiaggia di Baia Dorica, in territorio di Vittoria, di un pacco contenente 30 kg di ascisce. Un pacco sospetto è stato trovato ieri nel giorno di Pasquetta sulla spiaggia di Baia Dorica, punta Zafaglione, territorio di Scoglitti. Sono state alcune persone a segnalare la presenza del borsone in riva al mare, un pacco sospetto, accuratamente sigillato, avvolto con del nastro adesivo da imballaggio a pochi metri dalla battigia. L'agente ha dunque segnalato la presenza della borsa al 113 con la paura che potesse contenere dell'esplosivo. La polizia del commissariato di Vittoria, insieme alla scientifica, giunti sul posto, ha però notato che non si trattava di esplosivo, ma bensì di un pacco contenente sostanza stupefacente. Gli agenti dunque hanno trovato all'interno 60 pacchetti ben sigillati con nastro adesivo e ciascun pacchetto ne conteneva altri 5. In totale dunque sono stati 300 i pacchetti con l'ascisce all'interno. Ognuno pesava più di 100 grammi, per un peso complessivo di più di 30 kg di stupefacente, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 50.000 euro. Le indagini adesso continuano per capire l'origine e la provenienza, mentre lo stupefacente è stato inviato all'Asp 7 di Ragusa per le analisi chimiche. Il sostituto procuratore Valentina Botti, giunto sul posto, sta coordinando le indagini. Si trova ancora ricoverata all'ospedale maggiore di Modica, ma potrebbe essere trasferita al Guzzardi di Vittoria una giovane di 22 anni di comiso, vittima di un incidente stradale a Santa Maria del Focallo. Sabato notte la giovane uscita da un locale notturno stava percorrendo insieme a delle amiche la strada per riprendere l'automobile e tornare a casa, quando un'auto condotta da un 24enne di Ispica l'ha colpita. Forse colpa della poca visibilità di cui gode l'arteria, la ragazza non è stata notata ed è caduta rovinosamente a terra. Subito medicata e trasferita al nosocomio Modicana è stato giudicata guaribile in 30 giorni, in quanto a causa dell'urto si è rotta la tibia. Il ragazzo alla guida del mezzo si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Modica e l'ambulanza del 118. Il luogo coinvolto è lo stesso che vide morire la giovane pozzallese Valeria Cannata. E adesso cambiamo argomento. Annunciano una nuova protesta i dipendenti delle nove ex province regionali siciliane. Domani quindi sit-in all'Ars a Palermo. Carmela Minardo. Rabbia, disagio, angoscia per il futuro. I 6.000 dipendenti a tempo determinato e 700 precari dell'ex provincia protesteranno domani davanti la sede di Palazzo dei Normanni. Un sit-in alla ripresa dei lavori dell'Assemblea regionale siciliana per chiedere ai deputati l'approvazione del disegno di legge sui liberi consorsi. Bloccato all'Ars che paralizza l'attività degli enti mettendo a rischio servizi essenziali. Alunni con disabilità psichica abbandonati a se stessi e di fatto privati del diritto essenziale allo studio. Strade senza manutenzione come gli edifici scolastici, peraltro privi anche di riscaldamento. Personale ridotto all'osso e stipendi a rischio. E' questa la condizione in cui si trovano oggi liberi consorsi di comuni eredi delle province. Hanno avuto solo un nuovo nome mentre sono stati spogliati di tutto. Per la verità conservano intatte le competenze, ovvero le attività e i servizi che dovrebbero garantire, ma i loro bilanci sono stati falcidiati e non si capisce per quale miracolo dovrebbero riuscirvi. La legge di stabilità 2015 ha inferto loro un duro colpo, stabilendo che province città metropolitane riducano la spesa corrente di un miliardo nel 2015, due miliardi nel 2016 e tre miliardi nel 2017. Il che per Ragusa ha comportato un taglio di oltre 4 milioni e mezzo lo scorso anno, 9 milioni quest'anno e quasi 14 milioni il prossimo. Il tutto a fronte di entrate complessive per 30 milioni. In questo quadro è impossibile garantire i servizi, a rischio gli stipendi e il pagamento delle rate di mutuo. Il dissesto, insomma, è dietro l'angolo. Se tutto ciò è frutto di provvedimenti decisi dai governi nazionali e dal Parlamento, rimane gravissima e ingiustificabile l'inerzia della Regione, che in questi anni non ha saputo imboccare una via chiara sul futuro dell'ente intermedio che, peraltro in Sicilia, rientra nella sua competenza. E così, mentre le province sono ad un passo dal fallimento, a Palermo si discute ancora se recepire la legge del Rio o lanciarsi nell'avventura di uno scontro con il Governo nazionale. In una realtà come Ragusa, dove la provincia non è più in grado di curare la manutenzione di strade e scuole, né di assistere i disabili e pagare i dipendenti, non si comprende il ruolo dei cinque deputati regionali. Nello Di Pasquale, Giorgio Assenza, Orazio Ragusa, Vanessa Ferreri e Pippo Di Giacomo. Nessuno ha assunto un'iniziativa all'altezza della gravità del problema per tentare di scuotere un Governo regionale incapace, confusionario e inconcludente e per battersi per una exit strategy in grado di garantire la continuità dei servizi. Senza dire che in un territorio come quello ebleo, dall'identità forte e ricco di risorse autoprodotte, un nuovo assetto dell'ente intermedio, deciso dal basso e sostenuto dalle forze politiche e sociali, avrebbe potuto segnare un salto di qualità rispetto alla provincia che abbiamo conosciuto. Invece si va di male in peggio e questa è una precisa responsabilità dei deputati di questa legislatura, oltre ovviamente al Governo Crocetta e alla coalizione quasi mai maggioranza che lo sostiene. E sulla drammatica situazione che stanno vivendo i lavoratori delle ex province regionali, noi abbiamo ascoltato il capo di gabinetto dell'ente di Viale Delfante, Gianni Molè, sentiamo l'intervista. Una situazione drammatica quella che stanno vivendo le ex province, in particolare anche quella di Ragusa, con tagli a servizi essenziali? Situazione drammatica perché non arrivano risposte da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Il Parlamento non ha deliberato, non ha discusso, non ha definito la legge di riordino dei liberi consorzio comunali, ha rinviato per l'ennesima volta al 30 marzo perché c'è una grande difficoltà a definire questa legge. La vera polemica è se il sindaco della città metropolitana deve coesistere con quello del sindaco della città capoluogo, quindi il problema è Orlando, Bianco e Accoriti. Su questo problema il Parlamento si è bloccato. Tra l'altro vi è anche un braccio di ferro con Roma che non si definisce. La regione siciliana non riesce a dire va bene la legge del Rio che potrebbe appianare questa divergenza che c'è col governo Renzi oppure decida di andare a fare ricorso alla consulta. Ma nel momento in cui si resta in mezzo al guado tutto resta bloccato con grave ripercussione per i servizi essenziali. Da questo punto di vista si può dire che la deputazione blea è il latitante? Da questo lato non c'è un forte intervento di interlocuzione, cioè nel senso il Parlamento siciliano è diviso, non c'è una maggioranza forte e credo che la deputazione in questo momento non abbia una posizione ben chiara su che cosa vuol fare per il libero consorzio comunale. In assemblea non c'è una maggioranza che decida se approvare la riforma del Rio oppure andare allo scontro con lo Stato e fare una legge ex novo. Cambiamo argomento, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania accogliendo la proposta della DDA della locale procura avanzata dopo le indagini dei carabinieri del ROS di Catania ha disposto per sei mesi l'amministrazione giudiziaria di 24 società consortili controllate da Tecnis S.p.a., Artemis S.p.a. e Cogip Holding S.r.l. Quest'ultime tre società riconducibili agli imprenditori Mimmo Costanzo e Concetto Boscolo Giudice, indagati nell'ambito delle inchieste da Manera 1 e 2 della Procura di Roma su presunti tangenti all'ANAS, sono in amministrazione giudiziaria dal 12 febbraio scorso. Tra le società sottoposte per sei mesi alla misura dell'amministrazione giudiziaria eseguita dai carabinieri del ROS, c'è anche quella del porto turistico di Marina di Ragusa. E' stato risolto ieri mattina il problema dello sversamento di liquami fognari che si era verificato domenica pomeriggio in via Napoli a Scoglitti. Dal momento che il servizio di Spurgo è stato affidato ad una ditta di Gela, ha detto l'assessore alle manutenzioni Claudio la mattina e la domenica di Pasqua non garantiva la reperibilità, abbiamo dovuto attendere lunedì mattina per intervenire. Proprio stamattina sono stati avviati gli interventi di copertura delle buche nelle strade interpoderali di Contrada Alcerito, percorse ogni giorno da diversi agricoltori ad effettuare i lavori e la ditta Floridoro. E adesso ci occupiamo invece del bilancio dell'attività dei controlli portati avanti dai carabinieri durante le festività pasquali. I militari del Comando Provinciale di Ragusa, coordinati dal colonnello Sigismondo Fragassi, hanno monitorato le più importanti località di culto e turistiche, chiese giubilari e musei di Ragusa, Modica, Sciglicomis, Santa Croce Camerina e soprattutto tutta la fascia costiera presa ad assalto da cittadini e turisti che hanno voluto approfittare del bel tempo. I controlli sono terminati ieri in tarda serata. Tra i casi più gravi, due episodi di violenza, tre immigrati ad Accate Domenica, un 33enne tunisino è stato deferito per aver ferito al palmo della mano con un grosso coltello da cucina, un 35enne connazionale causandogli una profonda ferita che ha comportato l'intervento del personale del 118 e la struttura con diversi punti. In un altro episodio, un 28enne nel corso di una rissa scaturita per futri motivi di natura privata, ha colpito violentamente un trentenne procurandone un trauma cranico e una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, ne avrà per dieci giorni, mentre l'aggressore è stato denunciato per lesioni personali gravi. I carabinieri di Ragusa hanno denunciato uno spacciatore minorenne albanese e hanno segnalato cinque assuntori di stupefacenti al prefetto di Ragusa. Il presunto push arrestato perquisito è trovato in possesso di sei dosi di marijuana già confezionate. A casa sua i militari hanno trovato anche quattro piantine ancora piccole, probabilmente l'albanese è un coltivatore diretto, coltiva la droga in casa e poi la rivende in centro dei suoi coetanei. Giovanissimi infatti sono anche gli assuntori, l'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti i ragusani ed è stato anche accertato che nessuno di loro lavora né studia. Sono stati sequestrati 15 grammi tra marijuana e hashish. Durante le festività pasquali sono stati rinvenuti altri 11 grammi di droga, identificate 527 persone, controllati 314 veicoli, 12 le persone sottoposte al controllo dell'etilometro, 32 quelli perquisiti e 19 le autocontrollate, 4 persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga, 7 le patenti ritirate ed elevate 28 contravenzioni per un totale di 45 punti decurtati. Fin qui i controlli della Pasqua, ma subito dopo la pausa pubblicitaria torneremo in studio per parlare di tutta l'emozione delle sacre rappresentazioni pasquale, la pace di Comiso, la Madonna Vasa Vasa Modica e il Gioia di Scicli che anche per quest'anno sono entrati all'interno delle vostre abitazioni tramite Pasqua negli Iblei che ha registrato un nuovo record di ascolti. Quindi parleremo della Pasqua negli Iblei ma anche dei baci serali della Madonna Vasa Vasa subito dopo la pubblicità. Adesso ci fermiamo, torniamo subito dopo. Eccoci rientrati in studio per parlare di Pasqua negli Iblei, la fortunata trasmissione che ogni anno il gruppo editoriale Radio Video Mediterraneo propone per portare all'interno delle vostre abitazioni le sagre rappresentazioni della pace a Comiso, la Madonna Vasa Vasa Modica e il Gioia a Scicli. Il punto della situazione è quanto è successo domenica mattina in questo servizio. Con il successo di sempre andate in archivio anche per il 2016 la Pasqua negli Iblei, la trasmissione organizzata dal gruppo editoriale Radio Video Mediterraneo e che ogni anno crea un ponte tra la provincia di Ragusa e di tanti siciliani che vivono all'estero. Emozioni forti quelle che abbiamo regalato attraverso le immagini del nostro staff tecnico che hanno immortalato le fasi più salienti e toccanti delle tre sacre rappresentazioni più caratteristiche degli Iblei. La pace a Comiso con la conduzione di Gianna Bozzali, la Madonna Vasa Vasa Modica condotta da Viviana Sammito e Marco Scavino ed ancora con Giovanni Giannone per il Gioia a Scicli con la preziosa collaborazione dello storico professore Paolo Nifosi. Le tre postazioni erano coordinate dal direttore Catiuscia Carpentieri che ha condotto dagli studi televisivi del centro operativo di Modica. Insomma, un format televisivo ormai consolidato negli anni e creato proprio per i siciliani che vivono all'estero e che ogni anno le loro telefonate e messaggi ci dimostrano l'affetto per la Pasqua negli Iblei, gratificando il lavoro di quanti ci sono dietro la realizzazione di questa trasmissione. Quattro ore di diretta dunque, durante la quale fede e folclore si sono intrecciate, regalando le emozioni e le sensazioni che solo la Santa Pasqua sa trasmettere. Una diretta divulgata in tutto il mondo tramite il nostro sito web, così come ci testimoniano le telefonate arrivate da Boston in America e da Rio de Janeiro in Brasile. Dunque, anche quest'anno, la Pasqua negli Iblei è andata in archivio, registrando un boom di ascolti. Un ringraziamento va come sempre ai tanti fedelissimi telespettatori che ci seguono in tutta Europa e non solo, grazie anche a Sicilia Sat. Non ci resta altro che rinnovare dunque l'appuntamento all'edizione 2017, con la Pasqua negli Iblei. E il successo della rappresentazione sacra della Madonna Vasa Vasa quest'anno ha visto anche i tre baci in notturna che hanno riscosto davvero tanto successo. Sentiamo. Era stato annunciato da tempo. Novità di questa edizione della Madonna Vasa Vasa sono stati tre baci serali, voluti in occasione del Giubileo della Misericordia da padre Forgione, parroco della Chiesa di Santa Maria di Bethlehem. Fedeli visitatori e tantissimi turisti hanno aggredito la doppia processione. La manifestazione serale ha preso il via dopo la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Monsignor Angelo Giordanella, vicario generale della Diocesi di Noto. I portatori della Madonna e del Cristo Risorto sono stati preceduti dai portatori di San Giorgio, con la tipica divisa in rosso. A seguire la banda Belluardo Risadelli di Modica, che ha animato la processione, è per l'occasione stato eseguito per la prima volta un inno inedito scritto dal modicano e maestro Sergio Civello. Il primo bacio serale è avvenuto in piazza Corrado Rizzone. Anche in questo caso la Madonna Vasa Vasa, manovrata dei portatori, si è avvicinata al Cristo Risorto e inclinandosi l'ha baciato sul petto. Pochi istanti dopo l'atteso e suggestivo spettacolo pirotecnico. Il secondo bacio notturno è avvenuto invece nella piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie, a cui è seguito il passaggio dalla Porta Santa e un altro bacio all'interno della chiesa. Terzo bacio serale esterno al centro di piazza Matteotti, dove nel frattempo si era radunata la folla con numeri significativi. La gioia dei portatori e dei fedeli ha poi portato ad un quarto bacio serale esterno, dinanzi la chiesa di Santa Maria di Betlem, ed infine ad un ulteriore bacio all'interno della chiesa, dinanzi all'altare, prima di riporre definitivamente due simulacri. Il successo di domenica sera ha spinto padre Antonio Maria Forgione a ipotizzare l'istituzionalizzazione dei momenti serali della festa, momenti che hanno trovato il pieno consenso del pubblico e indirettamente sostenuto i commercianti del centro storico, dei quali hanno garantito l'apertura dei propri esercizi. E domenica sera a Ragusa Ibla è avvenuto il tradizionale rito della scinnuta. I solenni festeggiamenti in onore del santo martire Giorgio hanno preso il via con un particolare momento religioso. Erano in centinaia i fedeli presenti che hanno assistito con trepidazione alla cerimonia della traslazione del simulacro del santo cavaliere dalla nicchia in cui viene ospitato tutto l'anno sino all'absite del duomo. Effettuata la scinnuta, i componenti del comitato che cura i festeggiamenti hanno proceduto a sistemare la lancia d'argento che colpisce il drago e le staffe del santo cavaliere. Qualche minuto prima stessa procedura era stata effettuata per la traslazione dell'arca santa, anche in questo caso utilizzando un sistema molto ingegnoso ed efficiente utilizzato da un centinaio d'anni circa a questa parte. La festa di San Giorgio è prevista il 3, il 4 e il 5 giugno prossimi. Un flash mob organizzato per ieri giorno di Pasquetta a San Pieri dal Movimento Azzurro, dal comitato Notriv. Ieri pomeriggio c'erano anche siciliani liberi, Movimento 5 Stelle, Lega Ambiente ed Ente Fauna, una manifestazione per dire no alle trivellazioni e sensibilizzare le persone sul tema dell'inquinamento da idrocarburi, invitando quanta più gente possibile a votare sì al prossimo referendum. Nei dettagli è stato simulato un incidente su una piattaforma petrolifera con conseguente sversamento in mare. L'occasione è servita anche per parlare di sicurezza delle piattaforme, dei danni alla salute confermati, così come hanno sostenuto gli organizzatori. delle analisi dei sedimenti e dei mitili prelevati presso le strutture. Infine, le associazioni hanno lanciato singoli appelli per toccare il cuore e la mente dei presenti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo. Grazie!